Eccoci, siamo nel cuore della città, siamo infatti in via San Bartolomeo degli Armeni. Siamo quindi in pieno centro, ma al contempo in una via residenziale, defilata, tranquilla, molto riservata, silenziosa e quindi per questo estremamente apprezzata. L'appartamento che proponiamo in vendita è un appartamento di ampia metratura, molto luminoso, esposto molto bene, spazi esterni vivibili, vista incantevole. Abbiamo anche due posti autocoperti in autorimessa sottostante, siamo in una categoria catastale a due. Ma ora vediamo tutto nel dettaglio. Mi trovo nell'ingresso, un ingresso spazioso, luminoso, che ci conduce direttamente alla zona giorno. Eccoci quindi in questo ampio salone, luminosissimo, abbiamo un'esposizione sud-sud-est. E siamo affacciati su un bellissimo terrazzo vivibile. Il terrazzo è circa due metri di profondità, per oltre dieci di lunghezza, quindi molto ampio, molto bello, esposto magnificamente in posizione dominante, vista mare. E da qui si può veramente godere una vista panoramica fino al mare incantevole, senza strade, senza rumore sottostante. Siamo, come vediamo, a un piano alto e qui possiamo rientrare procedendo nella nostra visita. Rivediamo ancora la nostra splendida zona giorno. Procediamo in questa sala attigua. Potrebbe essere una sala da pranzo, uno studio, un ulteriore salotto tv. Procedendo, alla mia destra abbiamo dei comodi armadi a muro. E qui abbiamo la cucina. Una cucina spaziosa, affacciata su un ulteriore terrazzotto, una dimensione quadrata, esposizione a sud, con una bella vista sui tetti. Abbiamo l'ingresso di servizio, direttamente in questa zona cucina. Una comoda dispensa. Poi qui a Tigua, una zona lavanderia, bagno di servizio. E un'ulteriore stanza. Una stanza che può essere molto comoda. Una stanza di servizio, stireria, armadi della biancheria. Oppure essere in parte integrata, tutta o in parte, integrata, dicevole, cucina. Ampliando ulteriormente gli spazi, già peraltro. Gradevoli e di ottime dimensioni. Procediamo con la zona notte. Abbiamo due prime stanze. Una singola. Un bagno. Doccia e vasca. Una camera più grande. Come dimensioni sicuramente può essere una matrimoniale. E poi Potremmo definirla una master room con un accesso sulla zona armadi. La grande matrimoniale con la faccio sul terrazzo e quindi con sempre una magnifica vista. e il suo bagno. Un bagno spazioso. Doppio lavabo. Vasca incassata nel pavimento. E due grandi finestre che incorniciano sempre la nostra magnifica vista. Ricapitolando abbiamo quindi visitato uno splendido appartamento in via San Bartolomeo degli Armeni ampia metratura ottima esposizione spazi esterni vivibili due posti autocoperti categoria Catastale A2 e qua Tornando nell'ingresso possiamo concludere la nostra visita.